Ehi la ciurma! Io sono sempre Mazzetese e benvenuti in questo nuovo video Paxerello XD1111 del martedì. Oggi siamo su Crazy Taxi, un gioco abbastanza vecchino, nel senso che sarà di fine anni 90, primi anni 2000. Però a me fa un sacco ridere perché, se forse è troppo alto questa parte di musica, ecco. Bisogna cercare di caricare più clienti possibili, per che finisca il tempo. E più clienti carichi più tempo ti danno, se li porti abbastanza in fretta. Ma il tempo non è tanto, poi c'è la parte che è tipo un minuto, la versione base. Ok, il primo andato, il primo andato. Ragazzi, abbiamo ancora 47 minuti. Cioè, deve andare là sotto. Vai, 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 parti! Se marcia a piedi si bugga, è sempre un po', quindi... Oggi adesso non prendere il tram, perché altrimenti... Quanti soldi, quanti soldi, quanti soldi ci sta andando? Questa è... Normal, peccato. Bisogna trovare un cliente qua. Questa è nella mia. Chizza parlo, lo so dov'è. Andiamo. Poi più clienti uno porta. E più soldi fa. Uno Più avrà alto il punteggio alla fine Vi dico già che sono scarsissimo Eh come on Sto figo sacco di un kai Siamo già impantanati qua Oddio come nel carico Ponti Cioè no questo qua è quello che va alla chiesa forse Sì infatti Ci metteremo 40.000 anni e alla chiesa non si trova nessuno Non si trova nessuno là Ragazzi questo è l'ultimo cliente probabilmente E ne abbiamo tutti quanti Tipo tre Quattro Ma nel kaiser Ok si va A schiantarsi Uno Cosa ci vuole Non fa il kaiser Uzi Dov'è la chiesa Come lento Mi sono ucciso tipo Quattro clienti Uh classe D Non è malissimo Beh no Ok Proviamo l'arcade tre minuti Proviamo l'arcade tre minuti Vediamo cosa riusciamo a combinare Sempre con lui Quando ero piccolo scoglievo sempre lui Perché mi sembrava l'unico decente dei quattro Proviamo a prendere il secondo Non è il primo Ma che c'è Ma che c'è Eh va bene Mi chiede sempre qua Oddio 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 vai dai Dobbiamo prendere un altro Non voglio prendere quello di prima però Dov'è andare dall'altra parte Vieni qua vieni Seaside market Ok La porto io Ma perché non parto Sto kaiser di Che poi si fai abbastanza il pelo alle macchine Ti dà dei punti in più Queste sono le vecchie Yeah Com'è normal Mi sono ucciso tipo Popcorn mania Ok bello Ok 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 Occhi d'occhi Oh dai 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 Oddio 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 Vai Si noi abbiamo fatto un salto chissà che cosa Quanto tempo abbiamo 30 secondi per lui Mannaggia sto beccando tutto quello che c'è sulla strada qua Speedy, perfetto Ehm, c'è qualcuno che bisogna in taxi? Ok Dovevo andare? Fried chicken crochet Ok, andiamo Cioè, sto già a passare di due minuti e ho portato due persone No Eh, buonanotte Mi scusi, mi scusi No, rosso no, rosso vuol dire che è già in ritardo Mi darà pochissimo tempo per arrivare fino là E alla chiesa, come dicevo, prima non si trova nessuno ma è a cui danno un strappo Ah no, vabbè, dai, mi ha dato abbastanza tempo Ok, ce n'è qua di gente Ah, bisogna tornare giù qua Perchè non parte sta macchina del manga Fa un rumore molto strano questa macchina, non mi piace Cioè, ma mi è andata peggio che non in quello di un minuto alla fin fine Guarda, c'è Glienti Che schifo, che schifo Proviamo l'original Original modalità arcade Vediamo cosa cambia No, non volevo scegliere l'u... Vabbè Ormai 50 secondi Ah, partiamo da un altro punto, però Nel mio taxi fa dei rumori che non sono molto tanti Ops, ops, mi scusi Buon uomo Mi scusi, mi scusi Uggdio, buon uomo Attento, attention Ok, ho parcheggiato un po' male, ma... Vabbè 5 secondi di bonus Yeah, sì Eeeh, questo mi dà un sacco di tempo Chi è che mi sta suonando dietro? Basta, signore, con quel clacson Ve lo faccio mangiare, il clacson Eeeh, è un po' diverso No, non so se la mappa è diversa Se partiamo da un altro punto Che cavolo di solità è questa? Cioè non è umana Una roba dei giorni Cioè che... No, dove devo andare? Dove devo andare? Ah, ho qua Ok Sì, ma dove lo trovo con un cliente? Poi mi dà Prendo questo Uh, è la stazione dei pompieri Dove è? Eh, sei tutto in mezzo alla strada Cos'è sta storia? Pazzo Ce l'ho preso proprio in pieno In pieno Dai, 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 dai Dove devo andare? Dai, è pro sinistra Pro sinistra Eeeh, qualcuno mi dice che non devo passare di qua? Ma dove cavolo mi hai potuto andare su qua? Lento Oh, sei fatto male al piede Lol Capiteria, sì, andiamo alla capiteria Ma basta suonare Ma che che... Rilusin? Uh, ci siamo Ci siamo, 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 ci siamo Sto facendo comunque più clienti in modo detto normale che non l'altro Japanese restaurant Quanto Sì, effettivamente forse lo scopo sarebbe proprio di non beccare la macchina Ma... Più due secondi di bonus ma riesco a pigliare questo segno Però... Sì, ma se mi partisse in taxi... Ma vaffanbrodo, ma vaffanbrodo Yeah C Oh Sono andato meglio in questi dove avevo... 50 secondi Yeah, I like that I like that E nella modalità crazy box com'è allora? Tuo nome Tassista BD Joe Cos'è questo? Supera con un salto il punto K Esegui dei crazy drift Guarda tutti i clienti di stilazione Proviamo questo Andiamo Se ricarichi Oddio, cosa ce l'ho da fare? Uzzio Dove facciamo andare più veloce? Scusate Facciamo andare più veloce di così Boh, chiudiamola così, dai Cioè, non c'ho capito Comunque è Cioè, così Cioè Rilascia l'acceleratore Ingrana la marcia D Boh, vabbè Belli Ci vediamo Con il prossimo episodio Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi se per caso Voleste restare aggiornati sui video Ci vediamo Ciao, buona giornata Ciao Ragazzi Ho capito Ho capito Ma non avevo capito più niente Cioè Non è per non la chiaro Non è per non la chiaro Non dice che devi fare Tipo Velocissimo Il trucchetto è quello di Alternare la marcia Molto rapidamente Tipo Vabbè Adesso vado un attimo indietro Sistemo qua In pratica devi No Non mi è venuto Quando cambi Quando Allora Tu vai in retro Appena metti avanti Devi premere l'acceleratore Ma credo che sto giro Non mi sia andato Prima l'ho fatto due volte Eh no Infatti Non ce l'ho fatta LOL Vi faccio Subito vedere Prima mi è venuto Due volte di seguito Subito No Ok Sto giro è partito bene Avete visto anche voi C'ho da proprio uno sprint iniziale E Boom Questo è Quanto Ciao a tutti Ciao a tutti